Chi non ha votato? Chi mienti? Qualcun altro? Ancora chi mienti? Bene. Chi mienti? Ecco. Dichiaro chiusa la votazione. 284 favorevoli, 21 contrari, la Camera approva. 750, Monchiero, parere contrario, Commissione... Monchiero, lo ritira? Ritirato. 751, Baroni, parere contrari, Di Vita. Sì, la razza di questo emendamento è semplicemente, nel dare pubblicità di queste iniziative, darla prioritariamente alle leggi che già esistono e di cui abbiamo già ampiamente parlato per l'articolo 1 e per l'articolo 2 e in seconda battuta invece a tutto il resto. Non capiamo perché il parere sia contrario. Grazie, collega Di Vita. Non mi pare ci siano altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Nessuno? Caso, caso. Provi a togliere il segna voto dal dispositivo. Ecco. Buon accorsi. Bene. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 82 favorevoli, 296 contrari, la Camera respinge. Votazione dell'articolo 7. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Grazie.